Starek si è già mosso. Il frutto dell'Eden è a Buckingham Palace. Che lo prenda. Ho visto cosa hai combinato in città. Forse dovresti fidarti del mio giudizio. Ho ucciso gli sgarri di Starek. E tu che cosa hai fatto? Chiediamo a Enrique, mi dici? Io ho rimediato tutti i tuoi errori. Chi ha troppa fretta non ottiene nulla. Non provare a citare papà. È di Platone. Il punto è che ti importa solo distruggere tutto. Papà aveva ragione a non approvare i tuoi metodi. Papà è morto! Basta! Ho appena ricevuto una notizia. Al Vallo Palazzo, Starek ruverà il frutto dell'Eden e ucciderà i vertici di chiesa e stato. Ottimo. Di nuovo come ai bei tempi. E poi alla fine. D'accordo. Qual è il piano? Ma che inaspettato piacere potervi vedere di nuovo? Che cosa si dice nelle strade? Signora di Israele, abbiamo saperto che qualcuno all'interno di Buckingham Palace ha intenzione di... Quello che mia sorella intende dire è che vorremmo partecipare al ballo stasera. Ma è impossibile. Se anche ci fossero degli inviti rimasti, e non ce ne sono, qualcuno della vostra estrazione sociale... Per quel talinato Gladstone parteciperà al ballo, cederò il mio invito! Perfetto, allora andrò da scuola. Signora di Israele, se poteste spiegare al mio fratello dove si trova la casa dei Gladstone, forse potrebbe usare le sue doti per procurarsi i loro inviti. Che spasso? L'ha sentita, Dizzy? Sgrappiniremo gli inviti dei Gladstone! Grazie per avermi offerto come volontario, sovraena. Oh, di niente! Caro fratello, ora, signora di Israele, scusatemi, ma devo vedere il Marajà, perché penso potrebbe avere i progetti di riserva di una certa gritta. Il Marajà! Perfetto, ragazzi, abbiamo ottenuto il progetto Dracula! Non uccidere il poliziotto? Ah, ma ancora... Raggiungi la casa di Glaskon! Ok! Una domanda avrei. Come ci arrivo? Eh beh, scendendo dal treno, molto più veloce. Manto capita lontana la casa di Glaskon! Ci vediamo lì, ragazzi! E mo' andiamo a vedere di che cosa si tratta. Dove li torneranno? Il ballo è stasera. Avranno portato gli inviti con voi. Per caso hai visto passare due carrozze in un'ottima parola? Sì, signora. In una c'era un uomo, nell'altra una donna. Si sono divisi. Dove è andato l'uomo? Di là. Grazie. E' ottimo proprio, si sono divisi. E' ottimo proprio, si sono divisi. E' di livello 10? C'è... E' ottimo proprio, si sono divisi. No, infatti, com'è che ti faceva? Ok, ecco. Puoi salire? Oh, se ne avevo finora, sì. Ero su un territorio della missione di secondaria. Infatti, non me ne ero accorto. Infatti, se no, allungavo la missione. Dice di non uccidere nessun poliziotto. Oh, cavolo, più lontano non poteva essere, eh. Ah, ma è Buckingham Palace? No. E mi sa che è qui dove abbiamo fatto la missione. Vi ricordate, ragazzi? Quella delle... Ehm... Dei cosi lì, dei campanelli. Sì, dei campanelli. Vabbè, delle bobine quelle là di coso. Vabbè, delle bobine quelle là di coso. Vediamo. Rieci di andare ancora di là? Sì. Non so che dovrò fare tutto il giro. Non so che dovrò fare tutto il giro, raga. Ah, ma era un poliziotto questo. Cioè, erano due poliziotti. Sì, vabbè. Qualcuno mi ha scritto su Facebook. Una festa privata. Che io devo fare qua? Per poi andare là, eh. Mi piace di più far così, cago. Ho perso anche il cappello. Eh! Deve cavolo che hanno mandato il cappello a questo. Allora andiamo a prendere gli altri. Per quanto non è potuto. Eppure. Permesso. Eppure. Sì. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.